PICAPART trasforma il tuo modo di lavorare. Grazie alla nostra innovativa tecnologia di computer vision, PICAPART riconosce in pochi secondi qualsiasi oggetto, ne controlla la conformità e trova oggetti simili o intercambiabili. PICAPART è facilissimo da usare. Dopo la programmazione su misura, l'intelligenza artificiale impara automaticamente, senza bisogno di ulteriori interventi. È preciso, veloce, flessibile. Si può integrare in altri sistemi di visione, utilizzare anche con fotocamere industriali e commerciali, implementare tramite app. E per i casi più complessi c'è anche la PICAPART box. Il database completo con tutte le informazioni sarà sempre a tua disposizione nell'apposita dashboard. Con PICAPART le possibilità sono davvero infinite. GET COO